Chiamata alle arti il racconto del patrimonio culturale delle province, questo è lo slogan del progetto Rete Siti Unesco finanziato dall'amministro del turismo, nato per dare visibilità ai territori e vero e proprio laboratorio sinergico tra enti locali. L'evento, organizzato da UPI Nazionale, UPI Campania e provincia di Salerno, vede come ente capofila la provincia di Matera il cui presidente Piero Marrese a Pestum ne ha illustrato gli obiettivi e i contenuti in una conferenza stampa. L'obiettivo è quello di creare le sinergie tra i territori, tra le bellezze archeologiche, culturali, dei vari territori attraverso questo importante progetto che vede la provincia di Matera capofila a livello nazionale con l'intervento anche del ministero del turismo per continuare a far crescere il proprio territorio, per creare maggiore opportunità affinché attraverso la nostra promozione e la cultura si possano anche creare opportunità occupazionali. 5 le regioni del sud Italia coinvolte, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia i partner di progetto invece sono 15, tutti enti locali del meridione, le province di Matera, Barletta, Andrea Trani Caserta, Foggia, Salerno, le città metropolitane di Bari e Palermo i liberi consorsi comunali di Enne e Siracuse, i comuni di Alberobello, Barumini, Benevento, Matera, Monte Sant'Angelo è noto, partecipa anche l'associazione patrimonio del sud in qualità di partner finanziatore recentemente aderito anche LCC di Agrigento. Questi territori, questi siti sono volano di sviluppo, volano di sviluppo economico, sociale, culturale, turistico e quindi la sinergia, la collaborazione piena tra le istituzioni penso sia fondamentale per favolire processi di questo tipo. Abbiamo messo insieme tutta la rete fitta di musei, bibliotechi, archivi dalle province d'Italia questo grido si è elevato e si è propagato finalmente, compiutamente, diventerà una proposta che sarà sottoposta al governo perché non è possibile lasciare un'incompiuta così. È un'occasione importante di confronto tra il mondo delle istituzioni, delle associazioni il mondo anche imprenditoriale che fa turismo imprenditoriale e sostenibile sui nostri territori.